Musica 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 Grazie. 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 Da Pamplona, Gruppo Folkor Zadar, complimenti davvero per lo spettacolo e per le musiche che siete in grado di uscirci. Mi sembra non di Assister Internazionale oggi, ma a qualcosa che regala emozioni tipo passaggi come Maria De Filippi, perché avete visto il gruppo, l'avete visto ballare, l'avete applaudito e non vi siete accorti di una cosa sicuramente, Riccardo vieni vicino a me per piacere, Riccardo fa parte del gruppo folk Orzalar di Pamplona, non chiedo a nessuno di indovinare di dove sei, ma sia uno di quei giovani che con la valigia di cartone è partito, in questo caso alla volta della Spagna e sei di? Di Olbia e Riccardo e di Olbia porta sicuramente la Sardegna nel cuore di questa formazione, cosa ci puoi dire Riccardo? Praticamente mi ha adottato insomma, è un po' la mia famiglia di Pamplona diciamo, quindi sono molto contento del gruppo e di essere qua con loro insomma. Ho visto perché prima ho chiesto i tuoi compagnini di viaggio e lo so che ti vogliono davvero molto bene, quindi è questa una cosa molto bella che apprezziamo i giovani della nostra isola che vanno fuori e ovviamente si fanno voler bene e creano un bellissimo percorso. Grazie Riccardo e complimenti per tutto quello che fai, grazie mille. E noi torniamo in qualche modo in Sardegna, i paesi della nostra isola sono 377.